YouTube, benvenuti in questa nuova serie su Left Behind, il DLC per The Last of Us Ho appena preso la Play 4 e quindi finalmente faccio giocare a questo DLC Avendo The Last of Us finito già sulla Playstation 3 Quindi andiamo a goderci questo DLC induttivo, questo fantastico gioco parallelo di The Last of Us Che c'è? Sono le luci Sta giù! Chi diavolo sono quei tizi? Pione! Stai indietro, cazzo! Joy! Metti il braccio attorno a me Forza Siamo al sicuro Joel Joel! Ah merda! Joel! Dai! Alzati, alzati, alzati! Devi dirmi cosa fare! Forza! Devi alzati! Joel! Naughty Dog Un'una grazia Riley! Sono caduta sul fianco! Cazzo, pensavo mi avessero morsa Lo so, è stato forte Non vorrei uccidermi Non ti vedo da... non so nemmeno da quanto 45 giorni, beh... 46 tecnicamente Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta Già Tieni Guarda Non ci credo Sei ancora in stanza da sola Ho dormito sotto a Liz per tre anni e sai quanto puzzasse quella ragazza Sei una luce Lo conservi ancora? Ma... che stai facendo? Voglio evitare che mi pecchino in stanza con una luce Rilassati Su questo piano non ci sono soldati Tieni, complimenti Ehi Siamo a posto? Siamo a posto? Sono scomparsa e sei arrabbiata Sì E... ti devo delle spiegazioni Andiamo via, ti racconto tutto È quasi mattina E ho le esercitazioni militari Sai? Dove ti insegnano a uccidere le luci Su, metti i pantaloni e andiamo Sono una cretina Forza Siamo mai finite nei guai? Perché sta frase mi porta problemi? Dimmi che c'è qualcosa Cazzo Ecco qua Ok, ti giro sul fianco Ah, che buco Sì Ok, è lì però Mi sa che devi fare un qualcosina meglio Sennò qua Per un po' andrà bene Cerco qualcosa per curarti, ok? Callus Dagli un occhio Vado ma torno subito Promesso Ce la posso fare? Ok Bene Bene E noi personiamo Ellie Adesso dove cazzo vado? Adesso vediamo Chicca Allora Praticamente Questa è la parte Di buco Di The Last of Us In pratica La transazione Tra quando Joe è stata È cascata E si è fatto malissimo A Quando Poi Usiamo Ellie Sulla neve In pratica Allora Allora andiamo un po' Di spavere un po' Sto posto Dobbiamo cercare Come sempre Di raccattare Il più possibile Faccio tutto L'equipaggiamento Sennò siamo nelle canne Ma ovviamente Devo cercare anche Di Qualcosa Qua È Polo Cristo Se no Dicordo che Da The Last of Us Sappiamo benissimo Che Che non ci schiatta Joe Però Vabbè Direi che bisogna Andar su A sto punto Sotto Non c'è Non c'è La cipa E L'altra parte Di storia In teoria È quella Dove Prima Che Ellie Venisse morsa In pratica Vediamo un po' Qui cosa c'è C'è anche Il lucchetto Quindi non penso Proprio Sano entrarci Qui non c'è niente Ah no Niente di qua Ovviamente Ho chiesto Al gioco Di mettere Sto titoli Ma figo Ti sei Se ne ha messi Non mi ricordo Mezzo Comando Di The Last of Us Quindi Quindi mi servirà Un minimo Di tutorializzazione Da parte del gioco Lì posso aprirla L3 E beh Poi invece Chi che Un lucchetto Combinazione Eeeh No Un lucchetto Per raccoglere Un lucchetto Per raccoglere Triangolo Ok Adesso Non ci serve Questo è il super udito Ah Questa è la pistola Vabbè Non ci serve A misura Ok Guarda vai Li metti La via Così si accuccia Sì Il pad che Ha fatto La torcia Figata Ma come Avete ingoiato Le pillole Ha lasciato La bottiglia vuota Che gente Eh Allì Lo sapevo Hanno già preso Tutto Eh beh Non ho la sua solita fortuna Necchica Allora Allora Vediamo qua c'è qualcosa Accomendiamo sempre tutto Che Ci può servire Per fare le Mille cose diverse Ok Il farmacista Che abbia qualcosa Con sé Ok Abbiamo una combinazione Perfetto Qua E Ciao Andiamo Kit di primo soccorso Ma come cazzo Ci entro qui Sempre Sempre molto Oxford style Nel nostro rally Ah no Passa Vediamo Questa cosa Spera non serve Per ora Tutto tranquillo 35 a destra 30 a sinistra 31 a destra Ha funzionato Bingo Sempre della serie Non facciamo rumore Merda Spore Se hai intenzione Di saltarmi addosso Fanno subito Questa Cazzo Svegliati Svegliati Non risuscitare Non risuscitare Niente Ma dov'è Ah La chiave Ok Oh cazzo Porca merda È lì Parole La chiave La farmacia Andiamo Allora Qual è Qua Visto Ma cos'è Che sto facendo Quello è il coso Quindi È questo qua Ok Ok Vignetti Riperti Stiamo facendo Le foto Che sta facendo Vabbè Questa qua è ancora Un po' Un po' Buio Vediamo un po' Se c'è Qualcosa di utile Ma ho i miei dubbi Merda Ecco il clic A ritorno Ecco il clic A ritorno E questo L'abbiamo abbattuto Andiamo in farmacia Ok Ok Mettiamo Un attimo Un pauso Questo 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 Ah Ecco Vedete ma sto anch'io Capendo come funziona Dove sono i tasti Noi Alla playstation Ok 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 signori Direi che Appuntamento di oggi Può finire qui Lo sapete tutto Bye bye Grazie a tutti